Matteo Guardi, innanzitutto benvenuto, verrebbe da dire, perché è vero che tu sei qui già da un anno, però è la prima volta che anche i tifosi ti possono conoscere e che parli con noi giornalisti. Ciao, buongiorno. Ricordo che tu nel comunicato che dirà Moel Brescia quando annunciò il tuo acquisto, ci fu un tuo virgolettato nel quale tu dicesti voglio imparare l'italiano il prima possibile. E mi dicono che in quest'anno sei riuscito a impararlo. Sì, ho riusciuto perché anche la mia ragazza voleva lavorare qui, quindi abbiamo preso corsi con una professoressa. Posso capire tutto, parlare, scuso per il mio italiano, il vocabulario è un po' stretto, ma posso parlare. Matteo, che anno è stato per te? Sei arrivato tra l'altro all'ultimo giorno, mi ricordo, di mercato, quando a un minuto, due minuti dalla fine del mercato c'è stato il rischio che saltasse il tuo arrivo. Sì, sì, era un rischio, ma sapevo dove potevo andare in questa città, in questa società, che era e che è una grande società. Quindi ho fatto il rischio, ma adesso sono molto rigorioso di fare parte di questo club. Ecco, prima di debuttare, il tuo debuttatore è Gio Calabria, se non ricordo male, sei rimasto tre mesi in panchina, senza mai toccare il campo. Come li hai vissuti questi mesi? Era difficile, perché non ho giocato e mi aspettavo di giocare un po' più presto, ma ho lavorato bene. Se ho giocato tre mesi dopo è che il livello era un po' più alto, quindi mi sono messo al livello. Crescendo poco a poco, giorno a giorno, ho riusciuto ad alzare il mio livello per fare un bel finale di compionato. Hai fatto questo spezzone con la regina, poi avevi giocato quei 90 minuti con la Ternana ed eri piaciuto subito a tutti, perché eri entrato anche con grande personalità. Sì, sì, penso di aver fatto una bella partita. Non ho la fortuna, non ho potuto fare un'altra partita, non so perché, ma questo è il calcio. e ho lavorato anche in questa piccola perioda per essere pronto quando il mister, non so, Inzaghi o Corigni, quando lui aveva bisogno. Allora mi sono presentato e ho fatto lo che dovevo fare. Ecco, alla fine hai giocato sei partite, ne hai fatto sei presenze, però come hai detto, quando entravi hai sempre preso buoni voti, la gente ti ha applaudito, davanti avevi un osso duro come Payaz, che insomma è un grande giocatore e sicuramente aveva anche più esperienza di te. Sì, 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 certo. Lui aveva fatto anche dei stagioni in Serie A o in Serie B, quindi, no, e ha cinque anni di più di me, quindi sì, l'ho accettato, ma penso che questa stagione prima era buona per me, a mia età, perché mi sono cresciuto, ho lavorato su tanti caratteristici, si dice, su quelli che non facevo mai in Francia. Le skills, come si dice in inglese. Sì, le skills, la forza, tutto questo che non facevo mai. Quindi in Italia l'ho fatto. L'hai migliorato. L'ho migliorato, sì. Ecco, Payaz adesso però non c'è più, quindi tocca a te evidentemente giocare o partire, in teoria titolare, ti senti pronto? Sì, certo. Adesso sono pronto e ho la voglia di giocare, quindi tutto è presentato per giocare, ma devo fare anche ancora, devo fare ancora tonto perché non è aperto, non è la foglia che dice lui gioca o lui non gioca. La carta, come diciamo in Italia. Sì, la carta. No, no, sono pronto e se il mister dice che lui deve giocare, allora giocherò. Aiutaci a conoscerti un po' di più, perché noi abbiamo visto comunque un terzino che ama anche spingere, che ama salire, crossare, allo stesso tempo difendere. Pensi di avere caratteristiche più offensive, più difensive, dov'è che devi migliorare ancora? Allora, quando ero a Renes, sono formato a Renes, ero un difensore che era sempre davanti, a crossare, a fare questo lavoro e quando sono arrivato... Giocavi molto alto quindi nel Renes? Molto alto, molto molto alto. E quando sono arrivato a Iaccio era tutto l'opposto, sì, ero... Più basso. Sempre più basso, perché il mister mi diceva che lui, un difensore, era dietro a difendere. Quindi ho fatto il lavoro e dopo sono arrivato in Italia e mi sembra che il mister o i mister mi domandano di essere anche davanti e anche a difendere e per me il terzino vuole dire che sa attaccare ma sa... Anche difendere, deve fare le due fasi. Primo luogo deve difendere. Quindi io mi sembra... Si ha fatto tutto perché se a Ren sei stato alto e all'Aiaccio sei stato basso sei abituato a fare tutto. Non ho una caratteristica più offensiva o più difensiva. So fare tutti e due ma... Ma ho delle caratteristiche caratteristiche difficili a dire. Skills dai. Skills dai. E a difendere e a fare i sforzi a fare i cross e basta e già... Ti ricordi con che modulo giocavate a Ren e poi all'Aiaccio? 4-3-3 e 4-4-2 all'Aiaccio. Quindi era un po' più difensivo in effetti facevi il terzino basso e avevi davanti l'ala all'esterno alto. Avevo Matteo Tramoni Stava proprio davanti a te Tramoni giocavate così? Si quindi l'ho lasciato un po'. Tu difendevi per lui e lui poteva attaccare? Si si Ascolta ma gliela fai una telefonatina per dire se torna? Eh non lo so lui mi ha detto che fa la ripresa oggi quindi lui aspetta la decisione del suo presidente. Siete molto amici voi no? Avete giocato insieme nell'Aiaccio anche se ci aveva raccontato una volta Matteo avete subito questa delusione di non essere riusciti a essere promossi se avete perso i playoff anche se in Francia i playoff sono diversi no? Perché gioca quella di B contro quella di A giusto? Si Di Ligan C'è un piccolo una piccola partita un piccolo torneo tra tre dal terzo al quinto e dopo giochiamo contro C'è lo spareggio con quella di Ligan Si 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 e in Italia non è questo E lì non eravate riusciti a vincere il playoff? No Quella volta la con l'Aiaccio non avevate vinto No No perché era il covid e quindi a un punto non siamo saliti No No Ho giocato questo e ora quest'anno sono sono alzato in una quindi è bene Il finale Il finale di campionato però si è stato impiegato molto da Corini anche nelle partite decisive col Perugia col Monza come le hai vissute e se ripensi alla partita col Monza c'è ancora del rammarico per non essere riusciti a qualificarsi sì certo c'è ancora ma sì l'hai detto con il mister Lana e il mister Corini abbiamo lavorato molto bene perché loro mi hanno preso dall'inizio e mi hanno detto tu lavorerai su questo questo e questo ora ho fatto tutte le domande e sono cresciuto ancora di più in questi piccoli giorni mi ha buttato dentro e ho fatto il job quindi era una bella parentesa con questo mister ma un altro mi va bene nessun problema hai già capito cosa vuole Clotè chiede tanta intensità veloce trasmissione del pallone veloce recupero anche lui è un spagnolo quindi tutti i spagnoli vogliono giocare quindi mi fa piacere perché perché amo questo questo gioco questo stile di gioco e lui vuole molto intensità andare forte sull'avversario non vuole riposare vuole sempre giocare sempre attaccare quindi perfetto e lo farei se lui lo domanda te lo domanda sì me lo domanda e tu sei di un paese di una città alle porte di Parigi giusto che non so se lo pronuncio giusto né lì Sir Le Seine sì sono nato lì ma non ho vissuto mai lì ho vissuto sempre in Bretagna noi Sir Seine un po' vicino a Parigi ma con i miei i miei parenti sì sono trasferiti lì sì sì per lavoro in base sì quando avevo un anno che differenza c'è tra la Bretagna e la Francia cioè un bretone si sente un po' diverso dal francese un po' come Corsica c'è un paese che dove si trova la gente che è un po' orgogliosa di essere bretani 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 e come in Corsica ho visto in Corsica è lo stesso un po' come i catalani gli spagnoli quelli di Barcellona hai capito questo sì ma tu lo senti quindi questo spirito bretani sì è una terra dove si trova la gente che ha valore che ha valori che ha che sono strutturi che che vogliono fare un buon lavoro quindi gente che lavora molto sì sì come i Bresciani ti hanno detto che anche i Bresciani si alzano presto la mattina lavorano tanto ho visto hai visto sì sì come mai hai iniziato a giocare a calcio come mai il Rennes quando è che ti ha preso il Rennes? alle otto anni alle otto anni a Rennes ma ho giocato un po' alle sei, sette mi sembra e un giorno c'era il giornale e il mio fratello ha letto il giornale ha una non so come dire un provino una scuola calcio questo con Rennes vai e mi ha mi ha portato e dopo ho giocato ma io ho giocato perché giocavo sempre al calcio quindi giocavi in strada giocavi vicino a casa ho giocato sì e mi hanno detto ok tu vieni perché ero più alto degli altri più alto degli altri con il mio sinistro hanno detto ok vieni e dopo anno 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 più no anno dopo anno sì anno dopo anno che vuole dire scusa step by step step by step sono cresciuto e sono andato fino al professionista sei sempre stato mancino tu sei mancino anche con la mano scrivi col sinistro ah mano scrivi di destra e invece sempre col sinistro hai calciato sì sì sempre la tua attitudine insomma non so perché con il destro con la mano e sinistro con il piede e hai sempre giocato terzino in qualche altro ruolo anche no ho fatto anche il centrale quando ero un po' grande e ho fatto anche più alto sul campo o a destra terzino destro ma non di più tu eri abituato quindi a giocare con Ren B con la squadra B del Ren o in Ligue 2 con appunto la Iaccio differenze quindi tra la serie B francese e la serie B italiana come ti sei trovato in Italia cosa hai visto lo che dico sempre è che la serie B in Francia è un po' più con un po' più intensità ma non intensità con la palla intensità più scontri più fisico sì più fisico in il duello c'è sempre un giocatore che fa un metro noventa a Taconci e secondo me è un livello un po' più basso perché in Francia è un po' più basso dell'Italia sì perché l'ho già detto quando sono arrivato ho visto il livello un po' alto e sono stato un po' sul banco quindi vorrei dire che ho un po' più alto il livello qui eri riuscito a giocare contro anche Aietu in Serie B no era già andato era già andato ieri e fuori dal campo invece che tipo sei chi è Matti Ward fuori dal campo come come qui come oggi sono tranquillo faccio non faccio la festa tutte le sere faccio tranquillo mi piace andare al mare o al lago con la mia ragazza o un piccolo cane faccio tranquillo e anche la mia famiglia viene per per riconoscere un po' dove siamo e no mi piace questo la famiglia è importante per me e anche i miei amici sono già venuti tutti per vederci e basta sei un tipo da social sei un tipo da playstation sei un tipo da letture da libri si da libri un po' la playstation non mi piace ti piace più leggere? si si un po' cos'è che leggi? romani romanzi? romanzi si romanzi ma qualcuno in particolare francesi? no non mi ricordo tutta la musica non mi ricordo dove si chiama i libri ascolti o leggi quello che trovi quello che vedi tu lo prendi se la domanda è cos'è non posso dire allora ti chiedo prima di concludere questa intervista se hai un modello al quale ti ispiri un giocatore che ti piace in modo particolare nel tuo ruolo e magari in generale e se tifi anche per una squadra io in Brescia ok oltre al Brescia dico Brescia Francia niente Paris Saint Germain no c'era Ajaccio quando ero all'Ajaccio adesso c'è Brescia tifi per la squadra in cui giochi si si no ma il giocatore c'era Hernandez il più grande perché lui è Hernandez no non Teo Hernandez l'altro Matteo Hernandez guardo con Wisecout tutti tutti queste partite queste partite tutti i suoi partite si e no l'altro Hernandez che secondo me fa il centra fa il terzino è troppo difficile di passarlo quindi guardo sempre lui anche lui grazie e in bocca al lupo grazie mille